Musica Amici della Twin Sebastiani, finalmente l'estate è arrivata e con lei anche alcuni eventi molto simpatici, tante novità da ascoltare e soprattutto da vedere, protagonisti principali i nostri amici a quattro zampe e con loro anche l'associazione Pegasus Cinofili Soccorso Nautico, esposizione variegata di razze canine presentate da allevatori territoriali e nazionali affiancati anche alla presenza di poni sui quali i bambini possono farci un giro gratuito. Tanta innovazione a Porto Potenza Picena, un paesino in provincia di Macerata dove domenica 2 giugno per tutta la giornata si è svolto un bellissimo evento. Piazza Duette, Traversa Torresi, Piazza Stazione, questi luoghi della manifestazione. Un pomeriggio con aperitivi in riviera, gli stand che hanno partecipato a questa iniziativa si sono posizionati nella fantastica piazza della stazione, le telecamere della Twin Sebastiani sono andate a spulciare le caratteristiche e le novità. Tutto questo prossimamente sul sito www.twinsebastiani.it o www.twinsebastiani.com Vi attendiamo numerosi alla sezione eventi, vi ricordiamo inoltre di commentare al fine di poter realizzare i nostri programmi sempre più completi. Grazie a tutti e buon proseguimento!